Abbiamo registrato ieri il Nascondino Challenge che uscirà come Episodio 100 della Vanilla Quindi dovete spaccare il tasso di like, il tasso dei like di questo video Arriviamo a 2000 like se volete Che sabato o giovedì prossimo ragazzi uscirà lo speciale 100 della Vanilla Nascondino Challenge in tutta la Tabicraft Buongiorno ragazzi come è che abbiamo entrato in questo nuovo video di Minecraft Ci troviamo oggi finalmente in un nuovo episodio della Tabicraft Ragazzi oggi faremo un bellissimo episodio perché sarà una cosa un pochino strana L'ho fatto in live e ho detto ma perché non farlo anche in video Visto che molti magari si perdono in live notturne Cioè ragazzi oggi molto semplicemente faremo un piccolo tour del mondo Perché farò il paragone tra il mio vecchio mondo con un backup di novembre Che è uno dei più vecchi che ho che è tipo intorno al ventesimo episodio Fino ad ora praticamente Quindi sarà praticamente questo ritorno al futuro, questo throwback al passato Tra il mio vecchio mondo e quello di adesso Mi raccomando spaccate il tasso di like perché vi ho chiesto di arrivare a 2000 like Quindi tantissimi tantissimi like ragazzi E vediamo un attimino se ho già dei razzetti nell'inventario Come vedete torno dalla spedizione del land Quindi a sto punto è leftato Charlie Vuol dire che troppo rientrerà perché sta laghi chiando un pochino infatti Allora andiamo giù a lasciare un attimino un pochino di materiali Nell'inventario Che è un inventario all'interno delle chest Oddio lì ho trovato anche i bucket che avevo perso qua Ah questo elmetto qua dobbiamo unirlo al nostro elmetto Ci togliamo queste litre innanzitutto I blocchi ne prendiamo un pochino dai Togliamo anche tutte quante queste robine un attimino useless La carne la togliamo L'ender per le togliamo I razzetti sono tutti quanti Flight duration 1 Vabbè Teniamoci nel 64 E andiamo a unire se riusciamo il caschetto Che attualmente abbiamo con quello che abbiamo trovato nel land Vediamo quanto ci chiedono Questo e questo 7 Per un protection 3 Un unbreaking 2 Un acqua affinity Che non è tanto 7 Se vedete a noi ci manca davvero poco anche come livelli Quindi andiamo un attimino giù nella farm delle schede Andiamo a farmare anche un po' di mob E in più ragazzi vi ricordo anche di attivare la campanella dei feed Oppure se già l'avete attivata Riattivatela in questo momento ragazzi Premendo sulla campanella disattivate E riattivatela ora Perché in questo periodo qui molti stanno avendo problemi con i feed dei video Quindi oltre a lasciare il like super a inizio episodio Perché più like lasciate ragazzi ai video Ai miei video Più c'è la probabilità che vi arrivi il feed Quindi mi raccomando Attivate queste campanelle Perché è davvero tanto importante per avere tutte le notifiche dei video Allora andiamo qua sotto a farmare un po' di livelli Che in realtà un po' di livelli Non è perché ci serve quel pochino Che basta per arrivare a 7 per unire i caschetti 1 E vediamo quanti livelli ci dà Ok siamo già a 7 1 scheletro ci bastava Una nuova idea che ho avuto in mente Gente prima di tornare a unire i due cappellini È quella di creare una farm di gold Quella con i portali di ossidiana Per il nerdo tutto quanto Intrappolando quel pianeta Facendo 4 facciate diciamo Di portali del nether enormi Per ogni facciata del pianeta Ovviamente sotto e sopra non si possono fare Però diciamo che la mia idea principale È quella di intrappolare quel pianeta All'interno appunto di una farm di gold Ideale Quindi fatemi sapere se nei commenti vi piace come idea Allora dovremmo avere i livelli giusti Per unire questo e questo No al contrario Così perfetto C'è questo piccolo trucco che pochi conoscono Manca solo manning tecnicamente A quel caschetto E un breaking in più Allora partiamo dalla testa Dei 50.000 Quindi togliamoci Le Come cacchio si chiama La jazz plate E mettiamo sull'elitra Io direi lanciamoci anche in F1 E dovrebbe lagare un pochino il server Però tecnicamente Ora dovrebbe andare Rimango anche un po' in F1 Così vi faccio vedere un attimino meglio il mondo Come si presenta Così ragazzi È il mondo post Atabi Se possiamo definirlo Da quando abbiamo portato tutta quanta La mia parte del mondo in Atabi Abbiamo fatto con MC Edit Se non erro il programma Quando appunto mi sono trasferito A questa parte qua di mondo Come vedete le cose Sono cambiate un bel po' Perché come vedete qua Abbiamo il mulino Con la zona diciamo Farm Con te quante le piccole farm Di grano Di carote Di patate E tutto quanto Il resto Come vedete Questa qua è una zona Abbastanza carina Non tanto modificata Qua c'è il mulino Con l'isola piene Poi abbiamo La casetta degli iscritti Proprio lì l'abbiamo Però è senza tetto Devo modificare il tetto Magari in uno dei prossimi episodi Possiamo anche metterci qua Abbiamo messo Come vedete Vale e Ire Perché sono le moderatrici Delle live Però magari In una prossima live Potremmo comunque modificarla Anche perché questo video qui Lo sto facendo Il giorno stesso che esce Oggi dovrebbe essere Anche l'ultimo episodio Della De Mystic of Angelia In live con Teresa Dovremmo anche fare La doppia facecam Poi scendiamo E ci lanciamo Ancora giù Come vedete Una delle cose Che più risaltano Sono le mongolfiere Nome vanilla Una mongolfiera lì Una mongolfiera lì Che è la zona dei morti Che dopo andiamo a vedere E una mongolfiera A sopra Praticamente a quella torre Qua c'è una zona Della farm dei cactus Che a me piace davvero Un sacco a livello estetico Perché è un po' particolare Se così possiamo definirlo Qua c'è un lampadario enorme E mi piace davvero Un sacco Qua ha fatto anche Un sacco di cactus Nel tempo È davvero comunque Molto Molto carina Ok Poi ci rilanciamo Con l'Elytra Che stranamente Il server non lag Quindi va tutto quanto bene Poi abbiamo La zona dei diamanti vecchi Qua c'è Rolapo Qua abbiamo una fontana Molto molto carina Qua abbiamo la farm Di Shulker Che molti di voi Mi hanno chiesto di farla Ma già Io l'avevo già fatta Rega Quindi magari Se l'avete visto Da qualche altro youtuber Vi dico solo Che io l'ho già fatta Poi abbiamo la farm Il mini zombie Lì Che è seduto sopra la spada Che è conficcata Nella testa del villager Diciamo che è sempre stato Un piano Che ho avuto in mente di fare Ed è davvero molto carina Lì abbiamo la torre Che diciamo È una torre di controllo Per la zona Delle farm di Redstone Che appunto Si trovano qua Sotto Dove c'è una farm Di FK Della Fishing Della Fishing Non so come si chiami Ragazzi Però comunque È una farm davvero molto carina Lì abbiamo la farm Di Rotaie Che è una delle prime farm Che ho fatto O la prima Tecnicamente Diciamo con la Redstone E mi piace davvero un sacco Perché funziona davvero tanto Ma tanto tanto bene Qua infatti ha fatto Un sacco di Di Rotaie Nel tempo Qua perché non c'è nulla Qua ce ne sono un sacco E ai tempi Sarà anche un pochino Buggata Poi l'ho sistemata Poi di qua abbiamo La tomba Di Giacomino Che è un vecchio zombie Che avevo tenuto Vicino All'albero gigantesco Qua abbiamo una farm Quella di legno Che mi piace davvero tantissimo A livello estetico Qua abbiamo anche un po' di ceste Che saranno ancora un po' pienote Infatti Poi Ci lanciamo giù ancora E sorvoliamo A fianco Questa mongolfiera qui Che è l'unica Che gli manca È il beacon Qua potrei farci qualcosina A togliere sta stone Poi abbiamo la prima Verra torre di controllo Che ci è piaciuta Cioè che abbiamo fatto In realtà Qua abbiamo Il monumento alle scale E qui abbiamo Una dell'ultime O l'ultima costruzione Che abbiamo fatto Che abbiamo sistemato Che è il pianeta Di Reccaio Devo anche farci La casettina Tutto quanto Ma come vi ho detto prima Ho il progetto appunto Dei portali di Ossidiana Che diciamo Che lo intrappoleranno Proprio per renderlo Diciamo un mondo Dell'aldilà Qua abbiamo La mongolfiera Rosa e nera Che mi piace davvero Un sacco Che diciamo Che capitanerà Il mondo dei morti Con all'interno Un suo mob Perché ogni mongolfiera Avrà all'interno Un suo mob Con un suo nome Lì abbiamo anche La tripla farm Cioè il doppio mob grinder E l'iron farm Che è davvero molto comoda E fa un sacco di iron Davvero strabella E appunto Qua sotto abbiamo La zona Dei morti Perché è davvero tanto bella Con la sua torre Tutta quanta scura In dark oak E spruce Qua abbiamo Uno scheletro gigante Costruito col bon teresa E diciamo che qua abbiamo Il monumento Appunto La casa dei morti Con sotto un suo beacon Che ci dà ace E qua c'è il gigantesco scheletro Poi Non mi ha fatto usare l'elita Perché non mi ha fatto usare l'elita Bomber Comunque scendiamo Abbiamo La statua Dei 25.000 Dei 50k E dei 75.000 E poi ci sarà anche Quella dei 100.000 Poi Cosa ci manca Dobbiamo vedere anche L'interno della casa Oltre Diciamo Alla zona davanti È praticamente Un mini tour del mondo Per chi magari È nuovo E segue la vanilla Da poco tempo Magari C'è gente che ha iniziato Lì c'è la mia prima casetta Volevo dire comunque E c'è gente che ha magari Iniziato a seguire La vanilla Dalle live E E non conosce tutto quanto Qua sono tutte e quante Le varie zone di farming Dei maiali Delle mucche Lì che ce ne sono poche Perché avevo fatto una stargia L'altra volta Qua i cavalli Lì c'è la farm di polli Qua di granale De meloni Qua di netherworld Che amo Qua c'è il granaio Con sotto Un pochino di pecore Sopra abbiamo i lama Qua sotto ci sono le pecore Con tutti i vari colori Alcune sono morte Perché mi servono le loro lane Di fretta Non avevano neanche le shears Dietro Le famosissime shears Sacre Poi di qua noi ci muoviamo E lì c'è la fontana Come vi ho già fatto vedere Qua c'è la zona dei villager Con tutti quanti villici Che danno le robe I libri Qua c'è un albero Davvero gigantesco Doveva essere Diciamo la casa ospite Degli ospiti della tab Magari potrei comunque Fare un prossimo episodio Molto molto bella In terra non c'è niente Però esterno Mi è piaciuto davvero Un sacco È proprio particolare Qua c'era la vecchia casa Di Giacomino Che era il bomber Che è dentro Con la tomba E poi c'è casa Che comunque nei tempi È cambiata Devo cambiare però La facciata centrale Che fa davvero Proprio schifo Entriamo Lì abbiamo la stanza segreti Che apriremo ai 100.000 Qua abbiamo la cucina È sempre aperta Quella porta Non so il motivo Qua c'è la stanza principale Che è cambiata davvero Un sacco nel tempo Dopo vedete davvero Che è cambiata un sacco Con una sua zona Diciamo Per land E mi è sparito l'uovo What the fuck Ok Poi abbiamo anche Una zona del nether Che è davvero Molto carina Qua abbiamo tutta quanta La nostra zona Diciamo studio Con cucina E poi Una delle cose Che più amo Della mia vanilla Oltre alla zona Qua sotto Con la zona Appunto Dell'incudini Che già avete visto È la zona Del magazzino Che a me fa impazzire Perché è proprio bella Qua abbiamo il beacon Che dovevamo mettere Appunto sotto L'ultimo coso E qua c'è tutta quanta La zona magazzino Che a livello estetico Non guardiamo soltanto Perché devo fare le fornaci Ma da qua È davvero impressionante Per quanto è accurato Nei dettagli È bellissimo Facciamo un giro A questo punto Nel backup Del 30 novembre Perché cazzo Un sacco Di cose Questa qua Ragazzi Era la mia vecchia vanilla Guardate qua Quante robe mancano Allora Possiamo essere sicuri Sul fatto Che non abbiamo l'elitra Perché non sono mai andato Nell'end in questa parte Di mondo Qua c'era la vecchia farm Di polli Che manco Ci sono Sull'interno polli Perché saranno volati Tutti quanti via Perché manco Avevo messo una bot No Qua li lanciavo Le uova Neanche le avevo automatizzato Dovevo lanciare Le uova Che andavano Quei polli E poi Mamma mia rega Vecchi tempi Vecchie disorganizzazioni Lì c'era come sempre La mia vecchia casa Che al suo interno C'è ancora la sua prima chest Che ovviamente Quando abbiamo portato il mondo Le chest Spariscono tutte quante Qua comunque Come avete visto C'è la zona farming Qua manca tutto Manca il granaio Manca davvero Tutto quanto Davvero impressionante Il cambio che c'è Per esempio Lì non ci sono nemmeno I personaggi 25, 50, 75 Non c'è il pianeta Non ci sono le mongolfiere Non c'è assolutamente Nulla Non c'è neanche la scala In alto Non c'è proprio nulla È davvero impressionante Vedere quanto le cose Cambiano col tempo E di per sé Faccio questo video Perché in live Era piaciuto davvero Un sacco il paragone E ho detto Facciamolo anche oggi Perché tanto Ci sta davvero un sacco Mancano anche Tutte quante le torri Manca anche la zona Di redstone L'unica cosa che c'era È più o meno simile È la casa Come vedete Lì comunque c'è la zona Della Della stanza dei segreti Con la sua cesta Anche la facciata lì È cambiata davvero un sacco Come vedete Adesso non ci sono più Tutte quelle impalcature In legno Ma c'è una vetrata gigantesca E anche l'ingresso qui Che è tutto quanto In stombri Che per ora Non c'è più Infatti L'unica cosa che è rimasta Poi o meno È la stanza Questa qua da letto Che ormai tutti quanti Conoscono per la meme Del 118 È cambiata anche un sacco Anche la stanza Qua davanti Perché come vedete Non c'era la nuova stanza Del land Qua non ci sono le pareti Che avevo Oddio Mi rimettiamo la cesta Qua non ci sono le pareti Che avevo fatto Con i blocchi nuovi ai tempi Quando erano usciti Quelli di terracotta O di Sì terracotta ai tempi Si chiamavano Adesso è glazed terracotta Qua c'è comunque la cucina Perché è una delle ultime cose Che avevo fatto È davvero molto bella Diciamo che il backup Non è quello Poco prima della Atabi Quando sono entrato nella Atabi Ma in realtà È il backup più ultimo Che ho trovato per ora Nel computer Qua abbiamo La vecchia armatura Qua abbiamo la mia Prima vera armatura Qua Ho la chest plate Che avevo Tecnicamente messo Ma che non dovevo mettere Perché questa cosa Doveva rimanere qua E E nulla Questo è il mio primo piccone Come vedete Avrà ancora un utilizzo Infatti ha un utilizzo Queste qua sono le shears sacre Qua la zona dell'incudine Non è rimasto E tutto quanto Fino per arrivare Al vecchio smistamento Che era questa piccola stanzetta E questa stanzetta Da questo lato E poi basta rega Non c'è più nient'altro Da farvi vedere Perché in realtà Avevo da fatto davvero Molto poco in questo mondo Poi La mia vecchia stanza da letto In realtà Per arrivarci Devo fare un giro immenso Perché qua Avevo appena modificato il tutto Quindi devo farlo passare Da sto lato E arrivare poi In questa camera da letto E qua c'è la stanza Appunto Dei segreti Che verrà aperta Il giorno che farò I centomila iscritti Ragazzi Con questa Immagine qua Vi saluto Vi ringrazio Per aver visto tutto quanto Questo episodio Sono davvero molto felice Di fare questo video Perché Fatta vedere solamente in live E mi dispiaceva Comunque lasciate un bel like Un bel commento Iscrivetevi al canale Se non lo avete fatto Se avete avuto un altro video del genere Scrivetelo Che magari cercherò Altri backup più vecchi E faremo il paragone Un pochino dei due mondi Da Marco è tutto ragazzi Bella